I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un trentenne per tentato furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso nella tarda serata di giovedì in un cantiere, sulla statale 640. L'allarme è scattato dopo l'intervento dell'addetto alla vigilanza della ditta. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il protagonista della vicenda all'interno di un canale di scolo, dove è stato raggiunto e tratto in arresto. Gli agenti hanno sequestrato diversi cavi e cesoie. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica, il fermato è stato condotto ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice dell'udienza preliminare, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.